Clima di festa in casa Real Trecastagni e Natale, quello del 2018, il Natale di una cittadina che va a concludere un anno critico, segnato dal commissariamento comunale e dalla chiusura di alcune realtà, tra cui lo stadio La Carlina. Un momento di festa che è stato utile anche per un bilancio di quanto svolto sinora. A settembre il sodalizio del presidente Turi Cavallaro è ripartito in vista del sesto anno di attività, dividendosi tra il campo Mannanici di Trecastagni sul fronte a scuola calcio e attività di base, il comunale di Nicolosi e l'impianto scuola elementari di Pedara per le attività dell'Under 15. Che qualcosa bolle in pentola per il futuro del calcio a Trecastagni è presto per affermarlo. La vicinanza di alcune figure dirigenziali storiche in occasione della festa natalizia, svoltasi sabato 22 dicembre al Mannanici, sono comunque un possibile segnale di prossima rinascita. Ospite della mattinata di festa, padre Alfio Torresi, una vita per la parrocchia di Sant'Alfio, Philadelphia e Cirino, ma anche pioniere del calcio a Trecastagni quasi mezzo secolo fa. Discorsi societari a parte, è stato un momento di gioia e aggregazione che immancabilmente ha coinvolto i piccoli calciatori, al fianco dei genitori e del nutrito gruppo di tecnici e dirigenti. Un'occasione per augurarsi Buon Natale, Felice Anno Nuovo, il 2019 che verrà e darsi appuntamento col solito calore, la straordinaria passione e la solita partecipazione di chi vive il calcio sin dal primo impatto col pallone. Come tradizione vuole, auguri da parte di ciascuno dei componenti di ogni singola compagine proposta nell'ampio panorama del settore giovanile firmato Real Trecastagni. Piero Merrino, mister Merrino, con la categoria formichine, guardate, un applauso a questi piccoletti, guardate come sono piccoli, tre anni e mezzo, quattro anni, quattro anni e mezzo, un applauso forte e vi faccio tutti i miei migliori auguri e vi presento i miei piccoli campioni. Paolo Radiesco, Andrea, bravissimi però, vi faccio tutti i miei maggiori, vi faccio tutti i miei migliori auguri, malร Kait ребята, fa lì,镇 growe e vada super a tutti i miei migliori auguri, Categoria piccole amici, guidate dal mister Rosario Greco, vediamo stanno arrivando, facciamo un bell'applauso, genitori dove sono i genitori? Nome e cognome e auguri. Leonardo Caponnetto, auguri! Salvo Messina, auguri! Thomas Russo, auguri! Melino Cardaglio, auguri! Belgio Morolis, auguri! Facciamo un applauso, genitori! Giovanni Messina, auguri! Rosario Spina, auguri! Leonardo Laudani, auguri! Flavio Cascia, auguri! Davide Conti! Davide Conti! Un ringraziamento alla società e a questi piccoli campioni che stanno crescendo in questo ambiente sano. La categoria pulcini, guidata dal tecnico Salvatore Murabido, un applauso! Bravo, c'è un bel bimbo che è venuto in tema, bravo, bravo! Io ho Mattia Calvani, ho 10 anni, buono, anche io! Salvatore Zucchero, auguri! Casabianca Cristian, auguri! San Valaro Carmelo, auguri! Latania Giuliano, latania Giuliano, auguri! Sebastano Pappalardo, auguri! Arturo Paccaniani, auguri! Lorenzo Lattempo, auguri! Cirino Saremi, auguri! Don Matteo, auguri! Federico Galì, auguri! Marco Cuturi, auguri! Matteo Dolcini, auguri! Di Mauro Adesso, auguri! Missia Di Bello, auguri! Antonio Rodardo, auguri! Salvo Murabido, auguri! Un applauso per la categoria esordiente! Questa è la categoria esordiente, guidata da Francesco Caruso, un grande applauso! Buongiorno a tutti e benvenuti a tutti! Questa è la squadra dei esordienti, il gruppo di cui vado fiero, sono ragazzi fantastici e mi dispiace, come diceva il Presidente, purtroppo, per quelle che sono le assenze, ma un po' chi è influenzato e chi fa i motivi, però diciamo che, insomma, il grosso è qui, siamo contenti di essere qui e fa parte di questa bella società. Grazie! 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 Grazie!